oggi parliamo di un progetto musicale davvero interessante una band che ha sempre saputo trovare la propria via la propria personalità e la propria unicità sto parlando di boniver il disco in questione è 22 a million questo progetto nasce da un'idea del cantautore justin vernon nel 2007 e già nel 2008 pubblicano il loro primo disco dal carattere molto folk molto intimista ma da qui già possiamo riconoscere alcune caratteristiche che ancora oggi troviamo nel 2011 pubblicano il secondo disco in cui abbiamo un approccio forse un po più rock ma sempre dal carattere molto folkloristico e con già dei riferimenti molto progressivi nel loro percorso fino ad arrivare al 2014 in cui pubblicano il singolo heavenly father che andrà a finire nel film wish i was here chiaramente avendo pubblicato il disco precedente nel 2011 e avendo fatto uscire un singolo nel 2014 si vanno a creare delle voci di corridoio in cui si dice che probabilmente a breve sarebbe uscito il nuovo disco di questo progetto in verità toccherà aspettare fino all'autunno del 2016 in cui uscirà proprio questo disco 22 a million un disco che cambia tutto in questo disco troviamo sempre la grande sensibilità e la grande descrittività di questo artista ma il contesto è cambiato siamo in un ambiente molto più elettronico in un ambiente molto più digitale glitchy distorto talvolta quasi lo fai rovinato ma senza mai perdere quell'approccio folk da cui nasce il progetto la critica accoglie davvero bene questo album e gode di ottime valutazioni su tutte le piattaforme di rating tuttavia è nata anche una corrente un po contraria a quanto è successo diciamo che questo disco viene accusato di utilizzare tutti questi trick tutti questi stratagemmi molto elettronici molto paesaggistici per nascondere una certa inconsistenza da parte della composizione dei brani quindi di ciò che sta alla base talvolta viene anche accusato di aver calcato una strada già cominciata e percorsa da parte di james blake per stare un po più in attualità o addirittura da peter gabriel negli anni 80 in realtà il mio pensiero ascoltando anche il disco precedente è che finire in questo paesaggio è forse un passaggio molto naturale si sentono già delle sonorità lievemente calcate nella produzione precedente pur mantenendo un aspetto un po più rock ma ci sono già inoltre penso anche che al giorno d'oggi abbiamo a disposizione un sacco di mezzi che possono e anzi direi devono essere utilizzati per dare sfogo alla nostra creatività se l'elettronica ha bussato alla porta di justin vernon lui ha aperto senza problemi e come vi dicevo già nel disco precedente si sente questo grande contrasto fra delle distorsioni manipolazioni molto pesanti contrapposte ad un suono pulito e cristallino come quello della chitarra senza dimenticarci che questo approccio vocale e questa stesura delle melodie stesse rimane terribilmente identificativo per questo progetto indipendentemente dal contesto in cui lo troviamo comunque penso sia normale che una fetta di pubblico non accolga così volentieri un cambiamento così drastico soprattutto per chi ha conosciuto questo progetto agli esordi quindi con il primo disco molto folk e molto intimista ad ogni modo è accaduto qualcosa di simile a bob dylan negli anni sessanta quando la prima volta si presentò in concerto con della musica rock la gente non la prese bene addirittura tiravano delle cose sul palco eppure direi che un artista che in fin dei conti se l'è cavata bene vi ricordate il brano hide and seek del 2005 un brano di sola voce evocoder ecco nella traccia creeks c'è qualcosa che ricorda proprio questo approccio però sono passati undici anni e anche a livello di tecnologia è successo qualcosa justin vernon infatti comincia a sentire l'esigenza di poter lavorare in maniera polifonica con la propria voce in live ovviamente in quel periodo non c'era un qualcosa che potesse in qualche modo duplicare triplicare o quadruplicare la propria voce decidendo al momento ogni voce quale linea melodica dovesse prendere per questo motivo chiede aiuto a chris messina che riuscirà ad unire tutta una serie di componenti che gli permetteranno di fare questa cosa dal vivo e creeks è proprio un esempio pratico di cosa avviene con questo tipo di strumento questo strumento che viene detto proprio il messina in molti si stanno chiedendo che cosa sia esattamente questo messina quale forma abbia in verità lo stesso inventore ci spiega che non è un vero e proprio strumento è semplicemente una parte software quindi su un laptop una parte hardware e il tutto controllato da una tastiera quindi come dire lo strumento di per sé non è loro ma il modo in cui viene utilizzato sì e qui si apre un capitolo davvero interessante perché spesso si pensa che è proprio la tecnologia stessa che riesce a rendere una voce così pazzesca in verità deve esserci a monte un'ottima voce una grande sensibilità e un'ottima espressività per rendere questo effetto vi assicuro che questo brano di sola voce e questo particolarissimo strumento sono davvero davvero devastanti fra l'altro la cosa interessante è che non ci passa solamente la voce ci sono dei brani in cui c'è un sax che viene duplicato con questo strumento in diretta e non voglio nemmeno immaginare in fase di produzione quante cose abbiano fatto passare attraverso questo strumento nella ricerca del loro suono ecco fra tutti questi brani che devo dire mi piacciono davvero molto non saprei nemmeno da quale cominciare a raccontare ovviamente ve lo lascerò ascoltare con calma comunque il quinto brano mi ha colpito molto forse perché c'è ancora un po di questa riminiscenza del folk che comunque non manca mai all'interno di queste produzioni la chitarra la sentiamo sempre al centro ma il paesaggio come si diceva prima cambia molto c'è sempre un vento di elettronica che gira attorno all'artista e in questo caso la voce come viene armonizzata appunto con il messina raggiunge una profondità davvero interessante una cosa davvero intensa a questo punto ragazzi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate su questo disco che è stato tanto acclamato quanto discusso per me questo disco sicuramente rimarrà sempre un riferimento soprattutto dal punto di vista sonoro quindi boniver 22 a million tanta roba ci vediamo la settimana prossima